chi l'ha detta? Adu O Adu Voliviamo in bacio in diretto tra i denti Che è successo? Che c'è? Che c'è, è casa nostra Che cosa nostra? Che cosa stavo? Che c'è? Ma forco Dio, ma che sei down? Ma che cazzo fai? No, 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 no Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Hai spaccato il vetro? Ma che cazzo di problemi cazzo? Non urla, ma se tu mi spacchi il vetro, ovviamente non ho puoi dire cose con le parole non c'è bisogno non c'è bisogno puoi parlare non devi poter fare cose con gli altri che problemi hai guarda lo faccio hai fatto una cosa ho fatto una cosa è una cosa regà clippate regà clippate non ho fatto una cosa staccato il vetro non ho fatto una cosa non so che sai non so che sai non so che sai perché ha spaccato io non ho detto che mi ha aggredito non ho sono parole che non sono ne uscita nella mia bocca guarda io sto facendo il mio lavoro in tranquillità il vetro lì a rotto comunque è niente un applauso per i 100 viewers e per il vetro a rotto comunque voi vi rendete conto fai twitch perché su youtube non guadagni più no faccio twitch perché oltre a quello oltre a quello le unghie incarnite vanno bene per fare cosa? ho preso il vetro fratelli troppo vero vabbè torniamo al nostro monopoli ragazzi perché abbiamo messo i soldi io sono contro i giochi d'azzardo io sono assolutamente a me sembra una diretta completa non c'è la diretta completa ma perché no? perché l'avevamo tolta no l'abbiamo lasciata a fine no nell'elettritorio è la perché hai paura che diciamo è proprio bannati ah è vero però si vede la crepa sul piede ma serve alla diretta completa io non c'era a casa io non so cosa avete fatto io sono arrivato si guarda il vetro e si vede che è crepato sì ma quello che è successo prima questo è stato fatto casino questo sta negando beh ma lo ammette anche lui ma guarda questo sincero a me di riparare il vetro per 100 euro non me ne frega un cazzo